Ciao, sono Nia e di recente ho espresso il desiderio su desideriamo.it di cantare con Alessandra Moroso. Il mio post è uno dei più commentati, quindi grazie a tutti gli amici e i fans che hanno commentato e grazie soprattutto a Simonetta che si sta impegnando tantissimo. Grazie ancora e speriamo bene. Ciao! Ciao, oggi è il 13 dicembre 2014, siamo a Roma e io sono andata all'auditorium conciliazione a trovare l'amoroso. Allora questa donna vuole cantare con te. Ok. Che cosa cantate qua per noi, per il desideriamo, al duolo? Io ho l'Alzheimer, non me le ricordo i testi. Tutti le ricordi i testi, io non ho l'Alzheimer. Io mi se ne ricordo, perché faccio un po' fatica. E quindi che facciamo? Facciamo quello, dai il mobile sicuramente lo conosci, mi piace. l'Alzheimer l'hai dedicato a te? Sì, l'hai dedicato a me. A me. Vai. C'è pure l'armonia. Ma che bello! C'è pure l'almonia. C'è pure l'almonia. Sì, ci ho provato, diciamo. Ho sbagliato così. Allora, questo è un piccolo sogno realizzato. Poi ovviamente questa donna voleva farti conoscere da te. È il sogno grande 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 che un giorno magari potrà aprire anche un tuo concerto con la sua band. Però insomma, intanto vi siete conosciuti, sono molto felice. Assolutamente sì. Anche sono felice di conoscere. lei, lei, però io ti guardo da lì, ma in realtà non mi stai accadendo. Sì, è statunissima questa cosa, infatti. Quindi ringraziamo la Simo. Che sono un disastro. Grazie Dio, grazie. Tutta sudata, tutta sudata, tutta sudata. Però tutto c'è, tutto vero, vi voglio bene, sono felice, ce l'ho fatto. Evviva. Evviva. Ciao, desideriamo. Ciao. Ciao.